amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la palla nuoto vista da vicino torniamo oggi ad occuparci delle vicende della formazione femminile della comunoto requaro e per farlo è un piacere ritrovare in nostra compagnia una vecchia conoscenza del nostro canale ma il nuovo estremo difensore della formazione lariana carolina giacon ciao carolina bentornata un piacere riaverti insieme a noi ciao andrea grazie un piacere mio carolina io ti faccio iniziare la nostra chiacchierata con un passetto indietro andiamo a sabato scorso prima vittoria nel torneo per la comunoto requaro che batte in trasferta all'unione sportiva luca locatelli con questi primi tre punti ti chiedo qual'eredità vi lascia il match di genoa beh sicuramente siamo molto contenti di aver vinto questa partita perché l'abbiamo vinta molto bene anche abbiamo giocato bene sia in attacco soprattutto in attacco e sia in difesa abbiamo siamo partite subito forti conquistando subito primo tempo molto bene con un parziale alto quindi direi che questa partita ci lascia sicuramente sicurezza sul fatto che comunque ci stiamo allenando bene e possiamo fare bene anche questo sabato ma come anche in altre altre c'è nel campionato e stiamo lavorando proprio su questo anche per appunto la partita di sabato certo hai parlato di una partenza a razzo ti do io il parziale 8 a 2 per voi dopo i primi 8 minuti però quello che dalla lettura dei tabellini mi ha colpito è il rendimento altalenante tra i primi due tempi 8 a 2 in vantaggio 1 a 5 incassato nel secondo parziale è sicuramente un aspetto sul quale mister pisano vi avrà poi fatto riflettere come si può spiegare il rendimento nettamente contrastante tra primo e secondo quarto secondo te non lo so in realtà penso sia un po che ci siamo tra virgolette sedute è una cosa che è successa anche in altre partite perché altre partite come ad esempio quella contro il rapallo siamo partite molto bene e poi ci siamo un po spente e anche questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare ma penso che sia più un fattore di testa più che un fattore fisico perché comunque reggere la partita la reggiamo però mentalmente magari un po ci ci fermiamo e ovviamente è una cosa che con certe squadre può succedere con altre no perché perché poi magari veniamo travolti appunto da dalle altre squadre quindi è una cosa su cui dobbiamo ovviamente lavorare e evitare il più possibile perché un parziale di 5 a 1 non è proprio il massimo ma diciamo si può chiedere di meglio era era questa la scintilla che serviva per sbloccare il vostro percorso nel torneo per vedere la vera come nuoto sì sicuramente già sabato contro il rapallo eravamo molto sicure di saper fare bene abbiamo giocato molto bene con una squadra comunque tra le più tra le più alte in classifica e quello ci ha dato una forza in più che appunto abbiamo fatto vedere contro la locatelli e che sono sicura che faremo vedere anche con le altre squadre con cui possiamo appunto giocarci posti un po più alti ecco però sì questa questa vittoria fatta che molto bene secondo me ci aiuterà sicuramente tanto sia per una consapevolezza nostra sia come umore e quindi sono sicura che ci aiuti molto e lo spero anche quali sono gli aspetti del gioco su cui questo gruppo deve ancora migliorare allora secondo me dobbiamo lavorare abbastanza sulle conclusioni delle azioni perché riguardando le partite insieme ad andrea noi creiamo tante situazioni fatte anche molto bene però ci manca quello scalino per concluderle al meglio cioè arriviamo lì e poi rimaniamo lì perché non riusciamo a concludere bene le azioni quindi secondo me dobbiamo lavorare tanto su questo sulla conclusione dei contropiedi sulla chiusura dei contropiedi però già ci stiamo lavorando già anche da questa settimana in vista della britz e stiamo aggiungendo dei tasselli vado un attimo sul personale ti chiedo quali motivi si celano dietro la tua scelta di accettare l'offerta della comunotore coaro e di metterti in gioco in prima persona e uscire dal ruolo di forse di comfort zone la seconda alle spalle di beh sicuramente stare per tanti anni dietro a comunque una giocatrice molto forte e con un curriculum molto molto pieno ai suoi pro ai suoi contro perché comunque ho imparato tanto però ho giocato molto poco e quindi arrivata a questo punto quando ho ricevuto questa offerta mi sono detta che era arrivato il momento di giocare crescere divertirmi e quindi ho trovato appunto un posto dove potevo dimostrare a me stessa ea tutti che c'ero anch'io e quindi era arrivato il momento di cambiare di fare una cosa comunque abbastanza complicato perché trasferirsi da sola in una città nuova lontano e tutto quanto non è facile però per fortuna mi sto trovando molto bene sono contenta di giocare soprattutto e quindi ho fatto direi la scelta migliore prossima partita la cennavi tu vi aspetta la sfida contro la britz nuoto formazione che vuole i tre punti per centrare la storica qualificazione alla final six di coppa italia che partita ci aspettiamo beh sicuramente una partita difficile loro sono molto forti fisicamente hanno una buona difesa quindi sicuramente dobbiamo lavorare tanto in fase difensiva soprattutto su sul centro perché i loro centri sono bravetti per non esaltarle troppo e quindi sì stiamo lavorando molto su questo e sicuramente sarà una partita molto difficile molto fisica però ci stiamo preparando al meglio va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio carolina giacon per essere intervenuta e due appuntamenti ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao carolina grazie ciao andrea grazie a te ringrazio carolina grazie a te